Sessantesimo anniversario dell'Istituto Nazionale dei Castelli e qui nella splendida cornice di Castello Devoli si festeggia con un concerto di musica jazz. Venite con noi in questa puntata di Piaggio in Molise. Ed eccoci con Onorina Perrella, consigliere nazionale d'Istituto l'italiano dei Castelli. Gio, ma festeggiamo i 60 anni di questo istituto dalla nascita con un evento molto bello che sposa l'arte, la musica, la cultura. Sì, in effetti l'abbiamo messo insieme ad un'altra manifestazione che facciamo tutti gli anni in tutta Italia, che è quella chiamata le Giornate Nazionali dei Castelli, per cui in tutta Italia sono aperti i castelli e ci sono poi le persone che fanno fare le viste seguitate e l'ingresso è gratuito. Questa occasione avete scelto un bel connubio tra la storicità di questo palazzo, appunto del Castello Devoli, con la musica jazz. Con la musica jazz, sì, perché diciamo che è stato molto bello perché in effetti uno si aspetterebbe una musica, diciamo così, rinascimentale, cinquecentesca. Invece la musica jazz ci è sembrato di dare un colpo, diciamo, di giovinezza a questo castello, ancora ancora più brillante per quello che poteva essere e ci è piaciuto. Siamo stati aiutati in questo da Simone Sala, che ci ha trovato dei cantanti e dei musicisti che in effetti insegnano al Lorenzo Perosi di Campobasso. Siamo con il maestro Simone Sala, il coordinatore eventi del Conservatorio Perosi di Campobasso. Insomma, ha un connubio sicuramente interessante, è quello che vede questa sera la storicità di un palazzo come quello del Castello Devoli con la musica jazz. Insomma, sicuramente un abbinamento molto particolare, singolare, affascinante. Siamo qui al Castello Devoli a Castropignano per un altro evento di Parcoscenici Molise, la rassegna concertistica organizzata e voluta dalla regione molise con l'assessorato al turismo e alla cultura in partenariato con il Conservatorio Perosi. Una serie di concerti importanti dove appunto questa sera ci sarà di scena un bel pezzo del Dipartimento di Jazz, ma in altri appuntamenti abbiamo portato la lirica, abbiamo portato la musica tradizionale, abbiamo fatto tutto quello che normalmente un conservatorio fa per ben rappresentare l'ente, ma anche per valorizzare il territorio, che poi è lo scopo di questa rassegna. Stasera cosa ascolterà il pubblico che è intervenuto? Beh, un grandissimo trio. Ada Montellanico è una cantante jazz in Italia considerata, diciamo, proprio tra le migliori e anche tra le più attive. Marco Loddo al basso, che è un bassista, insomma, di quelli che sono proprio un punto di riferimento per il mondo del jazz e del basso jazz e poi al piano il maestro Enrico Zanisi, giovanissimo, ma già docente di conservatorio, siamo stati fortunati ad averlo qui a Campobasso, lui vive a Roma, veramente un grande grande maestro nonostante la sua giovanissima età. Un repertorio accattivante? Un repertorio accattivante perché sì, è una situazione molto raffinata, molto da jazz club, senza le percussioni, senza la batteria, però con tutto un bel programma e un bel viaggio attraverso quello che sono gli standard e il meglio della musica jazz. Ed eccoci con Franco Valente, presidente dell'Istituto Italiano Castelli per il Molise. Un evento importante, quello di questa sera, che intanto celebra i 60 anni dalla nascita dell'Istituto. 60 anni che celebriamo in uno dei castelli più importanti della nostra regione, anche perché è vero che è ridotto a rudere, è un rudere in gran parte restaurato, ma è un rudere che conserva degli elementi storici importantissimi. Qui sono vissuti marito e moglie Francesco Devoli con sua moglie Zenobia Revertera e due protagonisti della scena storica del Regno di Napoli agli inizi del Settecento. Francesco nasce qui proprio a Castropignano e farà una carriera fulgita dal punto di vista militare. Vincerà una battaglia determinante per la conservazione del potere da parte del Borbone, per cui fu gratificato. Ma come tutti i personaggi, quando diventano troppo grandi o vanno troppo in alto, quando precipitano, precipitano veramente con grande rumore. Ecco, questa è un'iniziativa insieme al Conservatorio per dare anche una sorta di valore ambientale al cui oramai è rimasto poco o nulla, se non la traccia, la contaminazione del passato. E queste sono iniziative che fanno bene non solo all'Istituto Italiano dei Castelli, ma anche e soprattutto ai molisani che molto spesso non conoscono questa realtà. Ecco, ricordiamo anche un'iniziativa che rientra tra quelle della giornata nazionale dei Castelli. È una giornata importante che si celebra in tutta Italia, siamo 20 sezioni. Il Molise è una di quelle più agitate, se vogliamo, perché sull'eredità che ci ha lasciato Onorina Perrella, che è presente stasera con noi, a cui va l'amore di questa iniziativa, è un'associazione che cerca di dare valore a questi luoghi fisici che non saranno più utilizzati, si spera per attività militari, per attività guerresche, ma hanno un elevatissimo contenuto culturale. Ricca di storia, qui la storia comincia dalla rocca sannitica su cui si appoggia l'edificio, passando per tutta la fase medievale. Ricca di storia, qui sono passati papi, imperatori, re, quindi personaggi di grandissimo spicco che speriamo volta per volta di mettere a conoscenza del più vasto pubblico, degli appassionati di queste cose. Ed eccoci con Lucio Giorgione, vicepresidente dell'Istituto Italiano dei Castelli per il Molise, ma consigliere nazionale di questo istituto che nasce ben 60 anni fa. E dunque questo concerto per celebrare questo avvenimento, ma anche in occasione della giornata nazionale dei Castelli. Infatti abbiamo ideato questo concerto proprio in questo castello, perché nella storia proprio del castello è molto legato agli ambiti musicali. In questo castello già nel Settecento si facevano rappresentazioni musicali, pertanto l'abbinamento Castelli-Musica, poi con il patrocinio del Conservatorio, grazie anche all'assessorato alla cultura, siamo riusciti a creare questo evento, in occasione anche del sessantesimo anniversario. Un'istituzione che lavora proprio per la valorizzazione di queste strutture storiche che ricordano i tempi che furono, tempi in cui sicuramente c'era tutta un'altra epoca, tutta un'altra storia e che affonda le radici del nostro territorio. Assolutamente sì, infatti le nostre radici sono la base di partenza di un percorso, di un discorso che noi portiamo avanti da anni di valorizzazione, proprio di conoscenza anche delle strutture fortificate. Queste strutture che cerchiamo di dargli una nuova vita, con rappresentazioni, con eventi, con convegni. Ebbene amici, termina qui la nostra puntata di Viaggio in Molise, in questa splendida location del Castello Devoli a Castro Pignano, un concerto di musica jazz in occasione dei 60 anni della nascita dell'Istituto Italiano dei Castelli. Grazie per averci seguito in questa puntata di Viaggio in Molise.